Comincio adesso la partita tra Outsiders e lupi Romaveni in possesso dei lupi che attaccano subito Avanza il giocatore dell'Outsiders Pendenza, c'è il tiro, chiude il portiere Protti, sulla sinistra dove c'è pendenza, servono, gondola, alla fine scappa via e c'è il tiro, la palla è fuori Avanza Figliolini, la gira sul numero 52, tiro e trova, un gol strepitoso Carappa, 1-0 per i lupi Si riparte, va a punteggio, tiene 1-0, va a palardo, attenzione, sopra c'è il pendenza, servono gondola sulla sinistra Ma gli strappano via il pallone, ancora Carappa, attenzione, in zona d'attacco, si mangiano, l'occasione del 2-0 Avanza Figliolini, attenzione, salta un uomo, salta pure il secondo, potrebbe cercare la porta, si gira sul sinistro, lo fa e trova un gol strepitoso, il giocatore del lupi, Figliolini, 2-0 Pallo laterale, battuto, c'è Figliolini, trovate rosa, bella la chiusura del portiere 10 secondi al termine della partita, i lupi cercano la costruzione, avanza Figliolini, può cercare la porta da là, cerca di servire il compagno, lo chiude l'arena Si avanza, David Regen, l'arbitro fisca, la fine della partita, vincono i lupi, Roma vieni, 2-0